Allora ragazzi, oggi è il grande giorno. Io e la mamma abbiamo comprato questa nuova casa e ci trasferiremo qui. Oggi voglio che voi vediate la casa all'interno e decidiate le vostre stanze perché poi dovremo tutta arredarla. Benvenuti nella nostra villa lussuosa. Questa dalla nostra nuova casa. Wow, ci trasferiamo Julian! Che bello, sì, però non lo so se mi piace, cioè se non mi piace come facciamo? Però se poi mi piace e poi non mi piace, non lo so Anna. Julian, ragazzi cosa fate lì? Volete stare fuori? Wow, papi! Oh, ma quanto è grande questa casa! E non avete visto ancora le vostre stanze? Andate su! Martin, caro, non sarà un po' costosa? Non ti preoccupare tesoro, la banca ci ha concesso il prestito. Andrà tutto benissimo. Ho già concordato tutto, non ti preoccupare. Ehi voi, allora venite su a vedere la mia stanza o no? Dai, forza! Ma dove sono gli altri? Siamo qui, Julian! Wow, questa è la mia stanza, è giga enorme! No, questa è la mia! Ma no, tu sei troppo piccolo per avere una stanza così grande! Ragazzi, questa è la camera da letto mia e di papà e ovviamente anche di Emma, quindi le vostre sono da un'altra parte. Oh, ma dai, venite a vederle! Queste sono le vostre stanze, come vedete sono confinanti. Ah, ma mamma non c'è un muro? Cioè questo vuol dire che siamo nella stessa stanza? Divisi solo da questo semplice muretto? Ma Anna, certo, tuo fratello insomma! Sì, ma c'è, io volevo stare da sola in camera, non con questo casinista! Casinista me? Sono io che non voglio stare con Miss Principessina Perfettina! Julian, basta! Ragazzi, non abbiamo ancora finito il giro della casa. Ho ancora una cosa da farvi scoprire. Papi, comunque è bellissimo qui! C'è una cosa qui sotto, sapete? È un passaggio segreto! Wow! Ma dove si va, Papi? Ho paura! C'è una scala, ma c'è un burrone, ma Papi, dove vai? Un attimo ragazzi! Tesoro, cosa fai? Un secondo! Wow! Papi, una piscina! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! È la nostra casa! Wow! Pool Party! Tesoro, ma sei sicuro? Una piscina! Non vedi come sono contenti ragazzi? Dai!